Restiamo sul tema, accogliendo in studio il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, buonasera e benvenuto, e l'assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli, buonasera e benvenuto anche a lui. Domanda brutale per l'assessore, questi soldi per l'hospice pediatrico a Fano ci sono o no? Certo che ci sono, ci sono 7 milioni di euro già disponibili da agosto di quest'anno, secondo le procedure europee, perché sono fondi europei, quindi ci stupisce un po' questa strategia del dolore che offende soprattutto le famiglie che soffrono e soffrono ogni giorno per malattie a volte anche importanti. A questa strategia con l'aggiunta a Quaroli, ma mi permetto di dire, visto che l'ho al mio fianco ed è stato anche Presidente della Commissione Infrastruttura, che è la mia omologa, dove io mandavo gli atti per la realizzazione dei lavori pubblici nella nostra regione, quindi anche a Fano credo che questa sia anche la strategia dell'amministrazione comunale di Serfilippi, noi rispondiamo alla strategia del dolore con la concretezza. L'ospis di Fano vede in corso la procedura per la sua realizzazione, quella realizzazione che a Fano era stata negata proprio dal centro-sinistra nei decenni passati, anzi c'era qualcosa di più, il centro-sinistra chiudeva anche l'ospedale di Fano a favore di un ospedale unico che non sarebbe stato realizzato a Fano, bensì a Pesaro, lontano da tutta la provincia, chiudendo anche gli altri ospedali della provincia. Primo passo alla progettazione, a che punto siamo? Siamo molto avanti, già con l'amministrazione guidata da Serfilippi ci vedremo il 30 nei miei uffici per concretizzare l'accordo di programma che darà vita alla variante urbanistica e parallelamente si svolgerà anche tutta la procedura per la progettazione, quindi poi per l'appalto integrato per la realizzazione del nuovo hospice. Quindi basta con le false notizie sulla sanità da chi la sanità l'ha distrutta. Il compito in questa fase dell'amministrazione comunale, sindaco, è proprio quello di adottare questa variante e in questo senso come procedono le cose? Beh, direi che procedono bene, nel senso che la variante segue l'iter progettuale, quindi la do per scontata rispetto a un investimento importante che grazie al governo Acquaroli e grazie all'impegno sottoscritto dell'assessore Baldelli e anche di tutta la giunta, finalmente Fano avrà l'ospice pediatrico. Ci abbiamo lavorato in questi anni, è chiaro che sono processi importanti, non è che si realizza un hospice che non era previsto da nessuna parte, che anzi il Partito Democratico, in particolar modo in campagna elettorale, una settimana prima del voto ha detto che non serviva Fano. Quindi vedere queste persone che oggi si fanno paladini di una battaglia di civiltà che abbiamo portato avanti in questi anni mi lascia sorridere. Mi spiace che vengono, tra l'altro visto che c'erano anche i 5 Stelle, quindi probabilmente sono già lanciati per la campagna elettorale, noi invece non pensiamo alla campagna elettorale, pensiamo ai fatti, quindi avendo un ottimo rapporto con questa amministrazione regionale, puntiamo a procedere celermente con l'iter per far sì che il prima possibile ci sia la gara di appalto per l'affidamento dei lavori e si possa partire. È chiaro che l'immobile che vedete, sicuramente verso in situazioni precarie, è da risistemare completamente, c'è anche da valutare lo sviluppo dell'immobile per quanto riguarda la parte dove non ci sarà l'ospice per le cure palliative pediatriche. È nostra intenzione dare il massimo supporto all'amministrazione regionale, all'assessore Baldelli, quindi mi auguro che ben presto le carte continuino come sono state fatte in questi mesi, in questi anni, e quindi si realizzi il prima possibile questo investimento, che lo ricordiamo è solamente uno dei tanti investimenti che la Regione Marche ha calato su Fano, perché di prossima iniziativa la realizzazione, in questo caso sono in uno step molto più avanzato, della palazzina Emergenze Urgenze, dove la Regione Marche ha destinato oltre 22 milioni di euro. Proviamo a parlare di tempi per quanto il terreno, quando si parla di opere pubbliche, sia scivoloso. A quando la variante urbanistica? La variante urbanistica naturalmente entro l'anno verrà realizzata, in questo momento era previsto case popolari a livello urbanistico e il Partito Democratico, che ha fatto il PRG prima delle elezioni, non ha destinato a edilizia sanitaria, quindi noi nel giro di due mesi, visto che l'immobile è di proprietà pubblica, non avremo problemi ad avviare l'iter per la variante, che nel giro di sei mesi si realizzerà. Successivamente ci sarà la progettazione, quindi l'appalto. Una data per il bando di progettazione e per l'appalto? Beh, se il Comune di Fa non troverà ostacoli con l'accordo di programma per la variante urbanistica, parallelamente noi procederemo con la progettazione e il bando per iniziare subito dopo la procedura di demolizione dell'attuale struttura dell'ospedaletto per una nuova struttura, quindi l'ospis pediatrico, che però sarà polifunzionale. Non sarà solo ospis pediatrico, ma stiamo pensando a riabilitazione e anche a tanti altri servizi territoriali che servono alla comunità. Ricordiamo che in Italia esistono solo 5 ospis pediatrici e questo sarà il sesto, grazie ad un lavoro fatto dalla Giunta Acquaroli insieme al, lo devo dire, attuale sindaco di Fano, al tempo presidente della Commissione Infrastrutture, che presentò tra l'altro una mozione per la realizzazione a Fano dell'ospis pediatrico. Dice bene Luca quando dice che a Fano sono destinati altri investimenti. Stiamo parlando di circa 100 milioni di investimenti sulla città di Fano, penso alla bretella Fano-Marotta, la variante alla strada statale 16, o penso, in tema di sanità, alla salvaguardia dell'ospedale di Fano. Con la nuova palazzina delle emergenze e urgenze, avevamo detto insieme a Luca, anche in campagna elettorale, perché noi siamo abituati a rispettare quello che diciamo, la parola data, che subito dopo la palazzina delle emergenze e urgenze avremo dato avvio alla progettazione e realizzazione del nuovo ospis. Questa è la realtà. Grazie all'assessore regionale e alle infrastrutture Francesco Baldelli, grazie al sindaco di Fano, Luca Serfilippi.